Allora, questa seconda parte del bootcamp la vorrei idealmente dividere in due parti. Nella prima parte vi voglio raccontare qualcosa. Vi voglio raccontare qualcosa sulla VMR Consulting. Vi voglio raccontare delle cose che sono successe e che non ho mai raccontato pubblicamente. E per questo sono contento che siete accorsi numerosi. Ma vi voglio anche raccontare quello che sta succedendo, i cambiamenti che stiamo apportando e come questi cambiamenti impatteranno sul vostro percorso formativo. Cercherò di essere il più conciso possibile per non farvi addormentare. Dopodiché, la seconda parte, lascio spazio alle vostre domande, alle vostre esigenze di chiarimento. Possono riguardare l'argomento di questo bootcamp che sono le leggi, possono riguardare altre tematiche. Questa giornata è per voi se c'è qualcosa che volete approfondire. Quindi potete incominciare già a pensarci. Allora, veniamo alla VMR Consulting. Il progetto VMR sta crescendo e sta crescendo a un ritmo che, devo dirvi, ogni tanto mi mette un po' di ansia. Ogni tanto mi fa venire un po' di paura, quasi. Ogni tanto, quindi, quando dici, cazzo, pure Roberto prova la paura. Certo, io, pure io, nel senso, sono perfetto, divino, onnisciente, onnipotente, ma ogni tanto mi manifesto fisicamente nelle mie imperfezioni. Quindi ogni tanto anche a me mi viene un po' di ansietta, un po' di paura. E quando questo accade, mi fermo, gioco con la mia percezione e mi diverto a collegare i puntini rispetto al passato. Questa cosa mi fa tranquillizzare, mi fa capire che se sono qui in questo momento è perché sono successe delle cose. Se dovessi fotografare l'inizio del perché oggi ci troviamo in questa situazione, vado a ritroso a quest'estate e ad un evento in particolar modo di quelli che capitano, quelli che non progetti, che non pianifichi, ma che, puff, ti si palesano davanti. Per cui quest'estate c'è stata la possibilità di vendere a VMR. C'è stato un formatore, non vi dico chi, manco sotto tortura, che mi ha fatto una proposta per vendere l'azienda. E devo dire che per un paio di minuti l'ho anche preso in considerazione. Poi però mi son detto non ho finito quello che ho iniziato, quindi non è il momento né di vendere né di fare uscite. E devo dirvi la verità, in quel momento era probabilmente la scelta più facile, quella di vendere. Perché venivamo da una serie di vicissitudini, che ora vi racconto, che effettivamente rendevano facile accettare questa proposta. Se oggi mi guardi indietro sono contento di aver detto di no. Sono contento di aver preso quella tappa e averla interpretata nel modo corretto. E sono contento di guardarmi indietro e vedere che nell'ultimo anno, anno e mezzo, abbiamo... Sì, era allettante la proposta. Sì. Nell'ultimo anno, anno e mezzo, abbiamo sperimentato il successo. Abbiamo sperimentato la crisi. Abbiamo sperimentato il rinnovamento. Abbiamo sperimentato la crescita. E devo dire che, cazzo, l'ultimo anno è stato veramente un'esplosione di emozioni sotto ogni punto di vista, di quelle che proprio dicono, ammazza, ma che cosa non è successo quest'anno? È stato un turbinio di emozioni e tutte queste cose che sono successe mi hanno segnato. In positivo, ma mi hanno segnato. Mi hanno fatto cambiare. Mi hanno fatto crescere. Mi hanno fatto diventare diverso da quello che ero prima. Soprattutto mi hanno portato molta più consapevolezza. e fino a oggi questa esperienza me la sono tenuta principalmente per me. Mi capita spesso di parlarne con Martina. Ovviamente ci sono alcuni membri della VMR che conoscono pezzi di questa storia. Daniele in primis. però effettivamente non ho mai raccontato pubblicamente nulla. Me la sono tenuto principalmente per me. Probabilmente qualcosa l'avete percepita, captata, vista, sentita, ma non avete sentito tutta la storia. e devo dire che nell'ultimo periodo forse anche perché ci continuo a pensare ho sempre più voglia di raccontarla. Ho sempre più proprio esigenza di condividerla. Perché ogni volta mi sono sempre approcciato in questo modo a questa a questo ruolo. cioè non tanto quello di raccontare la teoria perché sì, ok, può essere importante per aiutare la persona di turno ad essere più consapevole. Però penso che poi alla fine sono le esperienze cioè il come prendiamo questi principi e li applichiamo che fanno la differenza. Per cui per questo lasso di per questo lasso di tempo il non poter condividere certe cose non mi ha fatto proprio stare benissimo. E io penso che sia arrivato il momento di portarla al mercato questa esperienza non tenermela più soltanto per me. Penso che sia arrivato il momento di condividere con tutti gli aspetti positivi e con tutti gli aspetti negativi che ci saranno tutto quello che è successo. Per cui non mi ricordo se l'ho scritto da qualche parte forse forse nel video che ho fatto per il gruppo dei master di Telegram però con abbastanza orgoglio da una parte e un po' di agitazione dall'altra penso che a partire da oggi inizia ufficialmente una nuova era per la VMR e come ogni era come ogni nuova fase come ogni volta che c'è un cambiamento c'è sempre un po' quell'ansietta di lo capiranno lo accetteranno gli piacerà o non gli piacerà per cui visto che questo è il mio desiderio alla fine l'universo troverà un modo per far realizzare magari ci sarà una buona parte di questa community magari ce ne sarà una nuova non lo so sicuramente ci sarà qualcuno che sarà contrariato sicuramente ci sarà qualcuno che non gli piacerà il cambiamento ma confido che la maggior parte di voi apprezzeranno e continueranno a seguirci in questo percorso c'è un principio che visto che ne abbiamo parlato questa mattina no? i principi c'è un principio che ho sempre fatto mio che il cambiamento è necessario anche se a volte vorremmo mantenere le cose esattamente come sono lo status qua non esiste e certe volte mi rendo conto che il cambiamento sia più facile perché uno dice guarda i miei risultati che ho non mi piacciono quindi ovvio che voglio cambiare però ci sono altre volte in cui non è così ci sono altre volte nelle quali i risultati sono bellissimi voi siete contenti voi siete gradi voi siete appena riusciti a fare quello che volete fare ma anche lì serve il cambiamento perché il cambiamento è necessario per crescere e non dimentichiamoci mai che ad eleggere l'universo ci dicono questo che quando non cresciamo degresciamo per cui non posso fare altro che applicare questo principio ancora una volta e prendervi per mano e accompagnarvi in questo cambiamento andiamo con ordine la prima cosa che sta accadendo dentro questa community è che ci sono studenti che stanno avendo risultati molto importanti ci sono studenti che stanno andando a una velocità assurda ogni anno è nostra mentre dico questo non so perché ma mi è cambiato lo sguardo su sull'aria che è uno dei tanti esempi ogni anno siamo soliti dare un aggiornamento aggregato di quanti studenti sono riusciti a cambiare i loro risultati di quanto hanno guadagnato le percentuali e compagnia cantante quindi state tranquilli che nei prossimi giorni vi comunicherò anche questo però a volte sento cifre che sono veramente assurde nelle ultime settimane mi sono capiati in consulenza Vittorio che stabilmente fa 50.000 euro al mese mi è capiato in consulenza Antonio che ne fa 170 mi sono capiati i studenti che mi hanno detto di non dire i loro risultati e quindi a malincuore mi faccio i fatti miei per quanto vi dico che non sono particolarmente d'accordo con questa con questo approccio Bob Prott l'ha sempre detto che la responsabilità delle persone di successo è quella di condividere per cui io non posso fare altro specialmente in quest'occasione specialmente quando bisogna sforzarsi l'euro di percezione per vedere gli aspetti positivi del cambiamento non posso fare altro che spingere ognuno di voi a condividere i risultati tanto qui non c'è nessuno che lavora all'agenzia delle entrate potete stare tranquilli sereni fate quello che volete non ci interessa ma condividete i vostri risultati se non lo vete fare in pubblico in plenaria condivideteli con il vostro consulente perché quando dico che questo progetto sta crescendo lo dico anche e soprattutto per questo perché ci sono studenti che stanno trainando e tirando a forza questo cambiamento e voi sapete ogni cosa ha un opposto per cui ogni volta che c'è uno studente che ottiene risultati clamorosi ci sono due opposti su cui io in prima persona ho la responsabilità di concentrarmi perché da una parte c'è l'orgoglio c'è il piacere la felicità il vedere il constatare che cazzo vedi ho impattato sulla vita di questa persona bravo Paolo di turno che si riusceva ad applicare però dall'altra parte c'è un opposto che non voglio dire negativo perché sarebbe improprio dire che è negativo però diciamo che c'è una parte che necessita di riflessioni che è quella parte che poi origina il cambiamento perché uno studente che riesce a fare un percorso di trasformazione e ottiene dei risultati è uno studente che evidentemente ha adesso delle nuove esigenze presto o tardi avrà dei nuovi problemi e se io non sono il primo a rendermene conto e non sono il primo ad alzare la mia asticella che è quella di questa azienda presto o tardi quello studente non lo potrà aiutare più quindi so che mi avete sentito trilioni di volte dire che stiamo facendo x stiamo alzando l'asticella quindi probabilmente l'avete sentito talmente tante volte che ora pure sto giro alzo l'asticella sì pure a questo giro alzo l'asticella perché a proposito dei principi di business ce n'è un altro che mi piacerebbe vedere nei vostri business ed è che migliore è la parola preferita del dizionario questo se ci pensate un attimo è molto coerente con la legge della compensazione prendersi cinque minuti nel proprio business per chiedersi cosa posso fare meglio sotto qualunque punto di vista penso che sia fondamentale per cui questo è un principio che in VMR abbiamo molto caro e lo applichiamo costantemente per cui la mia responsabilità è quella di chiedermi ogni giorno cosa posso fare per migliorare questo percorso cosa posso fare per migliorare i risultati degli studenti e mi fa piacere vedere lo vedo indirettamente in questi satelliti che si stanno creando tipo la casa editrice di Fabiana delle altre cose che ci sono in cantiere altri studenti che non lavorano direttamente con me mi fa piacere constatare come questa idea di migliore 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 sia una cosa che anche tanti di voi incominciano ad applicare nella propria azienda sia in prima persona come imprenditori che verso i propri collaboratori e questa continua voglia di migliorare 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 e anche la ragione per la quale quest'anno abbiamo incominciato ad offrire a un gruppo di studenti dei servizi di riprogrammazione mentale di gruppo perché la tematica di come faccio a migliorare le performance del mio gruppo di lavoro dei miei collaboratori dei miei dipendenti dei miei commerciali è una richiesta sempre più grande all'interno di questa azienda e quindi è un'altra responsabilità che ci fa piacere prenderci e un'altra esigenza che ci fa piacere soddisfare per cui siamo arrivati a un punto nel quale da una parte dobbiamo far evolvere questo percorso dobbiamo fare in modo che questo percorso sia un percorso che va incontro a delle nuove esigenze che va incontro a dei problemi che fino al giorno precedente neanche prendevamo in considerazione perché in questo momento all'interno di questa community ci sono imprenditori che stanno crescendo ci sono aziende che stanno scalando ci sono imprenditori che devono delegare ma dall'altra parte c'è quel gruppo di studenti che ancora non ha raggiunto il proprio obiettivo e ovviamente migliorare il percorso significa guardare anche a loro e trovare un modo per farli accelerare trovare un modo per spingerli più velocemente a ottenere risultati fino a il recente periodo questa esigenza non era così tanto lampante così tanto evidente perché noi storicamente ci siamo sempre rivolti ad uno specifico bisogno di mercato cioè imprenditori o aspiranti tali che volevano avviare il loro business poi ognuno ha la sua storia magari avevano un business offline e volevano avviare quello online facevano il dipendente e volevano avviare il loro business ognuno ha la sua però la sol fa bene o male era sempre lo stessa imprenditori o aspiranti tali che avevano provato ad avviare un business avevano fallito e a un certo punto si erano resi conto che aspetta un attimo devo fare riprogrammazione mentale devo lavorare sul mio mindset per essere in grado poi di costruire un business di successo e tutto quello che abbiamo fatto in termini di prodotti in termini di servizi in termini di contenuti in termini di qualunque cosa è stato sempre fatto pensando a questa esigenza oggi però lo scenario cambia ed è per questo che dico che siamo in una nuova era perché diversi di quelli studenti che volevano creare il loro business adesso il business ce l'hanno e continuano a chiedere costantemente di avere un supporto per quella che è la fase della crescita tanti di voi in consulenza capita spesso che mi chiedono Roberto ma come faccio a prendere dei collaboratori come faccio a delegare come faccio a scalare come faccio a crescere come faccio ad aumentare il mio incasso ecco la comunicazione che vi voglio dare questa sera è che a partire ufficialmente da oggi vedrete una nuova VMR consulting vedrete una parte della nostra azienda che si concentrerà anima e corpo per questa esigenza cioè per portare contenuti per portare prodotti per portare servizi per portare soluzioni che sono specificatamente pensati per coloro i quali hanno capito che anche quando si tratta di scalare anche quando si tratta di delegare anche quando si tratta di far crescere la propria azienda serve la riprogrammazione mentale serve lavorare sul proprio mindset non è stata una scelta semplice perché questa scelta implica per certi versi andare a ritoccare quello che è un percorso che il master 10 tappa all'interno del quale tanti di voi stanno ancora lavorando per perseguire il proprio obiettivo per cui la difficoltà è stata quella di trovarsi in una sorta di tiro alla fune dove da una parte c'è la voglia di portare novità innovare per aiutare questi studenti che avranno risultati a crescere ancora di più dall'altra parte ce l'aspetta un attimo rallentiamo freniamo perché dobbiamo non ci dobbiamo diventare degli altri sono confianti del fatto che a questo punto siamo riusciti a trovare una soluzione siamo riusciti a trovare un equilibrio all'interno della nostra azienda che non scontenterà nessuno che continuerà a portare soluzioni in termini di mindset e in termini di strategie sia per chi deve creare il suo business ma anche per chi il suo business lo deve far crescere lo deve scalare e io sono molto contento di questa strada che stiamo prendendo perché viene anche incontro a quella che è un po' una mia esigenza personale che è quella di poter trattare degli argomenti che sono più vicini a quelle che sono le esperienze che sto facendo in questo momento io incomincio ad avere veramente difficoltà perché probabilmente ho anche uno stacco emozionale dal avere a che fare con tutte quelle che sono le problematiche che ci sono quando si fa il passaggio a dipendente imprenditore perché per me è passato troppo tempo sono successe troppe cose ci sono state troppe esperienze di mezzo e mi rendo conto che a volte non riesco a vivere la vostra difficoltà perché per me è passato troppo tempo perché per me è diventato troppo banale e quindi non so se avete mai vissuto una cosa del genere non è facile non è facile avere un ruolo e poi lasciarlo perché comunque ci sei attaccato perché comunque delle persone ti hanno dato fiducia vorrebbero essere aiutate da te ma tu ti rendi conto che effettivamente un modo migliore c'è per aiutarle e questo modo non implica la tua presenza è stata questa la mia difficoltà dell'ultimo periodo ma se veramente la missione è quella di aiutare il maggior numero di persone a raggiungere il proprio obiettivo allora io devo fare un passo indietro e mettermi in condizione di aiutare più persone con le quali in questo momento ho più contatto o più vicinanza perché si trova in una situazione più vicina alle mie ultime esperienze ed è per questo motivo senza voler creare panico perché non stiamo andando da nessuna parte che ci sarà questo cambiamento per cui tutti quelli che stanno facendo questo percorso con l'intento di fare il passaggio a dipendente imprenditore con l'intento di creare il loro primo business continueranno a svolgere questo percorso con sempre i soliti servizi con sempre i soliti prodotti con sempre i vostri consulenti a disposizione ma Willy sarà sempre più presente e sarà sempre più al centro di questo percorso perché è lui la figura all'interno della VMR che sta vivendo più da vicino questa esperienza io non vado da nessuna parte o per meglio dire continuo a fare il giro del mondo ma questo poco importa continuerò a fare il mio lavoro semplicemente lo farò con tutti quegli studenti che sono uno step avanti e che in questo momento si stanno scontrando contro tutte quelle problematiche difficoltà di mindset che ci sono quando bisogna scalare l'azienda farla crescere delegarla espanderla entrare in nuovi mercati e compagnia cantante sotto questo punto di vista vi posso già dire che sono stati apportati dei cambiamenti perché evidentemente per queste persone era necessario fare dei ritocchi al percorso annuale per cui finché business non ci separi insoddisfazione creativa lo stesso ricco sfondato sono degli strumenti dei pezzi che servono per aggiornare questa metodologia e per venire più incontro a queste esigenze e vi posso dire senza entrare nei dettagli perché non è questa la sede che nel corso delle prossime settimane nel corso dei prossimi mesi ci saranno delle ulteriori novità per far sì che il percorso annuale per chi ha un'esigenza diversa che ripeto è quella dello scaling della crescita ci sia un percorso che sotto tutti i punti di vista viene incontro a queste esigenze che ha un'esigenza che ha un'esigenza